Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia Ciao a tutti, vi aspetto il 28 agosto nella bellissima Sicilia a Cerami in provincia di Enna dove ci sarà il mio concerto acustico in piazza Marconi durante i festeggiamenti in onore di San Sebastiano Martire. Canterò le mie canzoni con chitarra acustica accompagnato dal violino di Anna Magno e dalle mie musiche discografiche. Ci vediamo quindi il 28 agosto in Sicilia a Cerami in provincia di Enna in piazza Marconi. Vi aspetto per passare un po' di tempo insieme e poi alla fine faremo le foto, ci abbracceremo, faremo le autografi e niente. Ciao, ci vediamo il 28 agosto. Sopra quella convinzione di avere la verità Grazie a tutti.